Operazione Scialdo, incastrato 37enne bassanese disoccupato che spacciandosi per fotografo professionista sul web ad escava vittime minorenni. Tutto è partito dalla segnalazione della madre di una 14enne trevigiana che si è allarmata dopo essere venuta a conoscenza delle pressanti richieste avanzate via internet alla figlia da parte di un sedicente fotografo che in breve è passato a inequivocabili proposte di incontri sessuali accompagnate da generiche promesse di regali. La donna si è rivolta alla polizia postale, gli agenti attraverso una complessa attività sotto copertura, coordinata dalla procura distrittuale di Venezia, si sono sostituiti alla ragazzina per verificare fin dove avesse intenzione di spingersi l'uomo. Quando il 37enne è riuscito a ottenere un appuntamento in un appartamento, invece dell'adolescente si è trovato davanti i poliziotti. Da perquisizioni nella sua abitazione del Bassanese, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato smartphone e altro materiale informatico usato dal maniaco. Ora c'è da verificare se altri giovanissimi siano caduti nella rete dell'uomo.